Risolto? Fai una prova un attimo. Dobbiamo rispondere di nuovo o l'avete presa? Proviamo a rifare allora la risposta. Diciamo che in questi sette mesi che sono stati molto lunghi per me mi sono sempre allenato con l'obiettivo di tornare per l'ultima partita con la Juve. Poi per fortuna l'hanno spostata lunedì, quella col Bologna, quindi sono riuscito a farne due per poi essere in forma, per essere convocabile per l'Europeo. Poi è logico che adesso per me è già una grande emozione essere qua nei 30 e poi sarà la decisione del mister a convocare i 26 che andranno a fare l'Europeo. Radio Rai, c'era Daniele Fortuna, lo vedo. Ah è fuori, ok, quindi saltiamo Radio Rai e c'è Gazzetta dello Sport, allora Luigi Garlando. Ciao e in bocca al lupo. In questi giorni Spalletti forse ha usato come parola martellante, aggressione, riaggressione, questa mentalità di andare a prendere la palla davanti. Tu vieni da una squadra che ti ha educato o comunque è educata a scappare indietro e ad aspettare. Questo ti comporta dei problemi? È un calcio che preferisci questo? Grazie. No, diciamo che nel mondo di oggi, nel calcio di oggi è importante saper fare più cose. Ti devi adattare ovviamente con l'allenatore che hai nel club e con l'allenatore che hai in nazionale. Ognuno ha le sue idee e chiede cose diverse e noi dobbiamo essere in grado di svolgere sia quelle che facciamo nel club sia quelle che veniamo qua in nazionale a fare. Abbiamo poi Simone Malagutti, Mediaset e poi andiamo da Patania e Bocci. Ciao, bentornato. Volevo chiederti che contenuti vedi in questa convocazione tra tecnici di comprensione, di perdono per quello che è successo e se hai avuto un po', non dico di imbarazzo, non è magari la parola giusta, ma nei confronti di Locatelli che magari si sentiva certo di esserci, invece poi ci sei tu. No, vabbè, sicuramente anch'io sono rimasto sorpreso dalla convocazione perché stando fuori sette mesi dai campi non era facile essere convocato ed essere qua ora. Nei confronti di Locatelli io sono un suo amico, lui è mio amico e io gli voglio bene. È logico che sarà dispiaciuto per non essere stato convocato, ma io gli ho parlato, gli ho detto solamente che comunque anche lui poteva meritare di essere qua. Gli sono vicini in questo momento, ma ero brutto a livello calcistico per non essere stato convocato e adesso io mi concentro per essere convocato per l'Europeo. Abbiamo Fabrizio Patania, Corriere dello Sport e poi Alessandro Bocci, Corriere della Sera da quel lato. Ciao Nicolo. Spalletti qualche giorno fa ci ha raccontato di esserti venuto a trovare a Roma in occasione della fine Coppa Italia. Volevo chiederti che cosa ti ha colpito di quell'incontro, se è stata una sorpresa o se già nelle settimane precedenti avevi avuto qualche sensazione o qualche contatto che ti faceva capire che poteva essere possibile la convocazione. Grazie. Il mister l'ho incontrato in campo l'anno scorso quando allenava a Napoli e poi è venuto a vedere un allenamento da noi alla Juventus e l'ho conosciuto in quell'occasione lì. Poi è successo tutto quel che è successo e mi aveva fatto una telefonata circa marzo per chiedermi come stavo a livello umano e poi ci siamo visti casualmente in hotel lì a Roma prima della Coppa Italia e io stavo per andare a letto e lui mi disse no, sediti qua che dobbiamo parlare. Mi ha fatto molto piacere aver parlato con lui quella sera lì, mi aveva dato consigli anche in campo, poi ci speravo nella convocazione ma non ne ero certo. Alessandro Bocci, Corriere della Sera, sempre da quel lato. No, no, chiarisco solo il concetto perché in fondo era la domanda di Patania. Volevo capire se per te è stata una sorpresa, cioè se l'hai visto sull'elenco, ti hanno avvisato prima, ti ha chiamato per dirti ti chiamo, quando hai saputo che saresti venuto qui insomma? Grazie. No, l'ho saputo al momento della convocazione, quando sono uscite le convocazioni su internet, anche perché stavo dormendo, stavo riposando e ho visto mille messaggi sul telefono e ho capito che c'era qualcosa di bello. Comunque no, da quando mi hanno squalificato ovviamente era un sogno, però chi mi diceva che poteva essere convocato io non ci credevo, anche perché era l'inizio di quei sette mesi lì e dovevo concentrarmi su tutto il resto fuori dal campo. E quando è diventata realtà è stata un'emozione fantastica e ora sono qua, che mi gioco il posto dei 26 e darò il massimo per essere nei 26 e come ho già detto nell'intervista alla Gazzetta qualche giorno fa, se non sarà così ti farò l'Italia da fuori. Scusa, nel colloquio in Coppa Italia non ti aveva anticipato allora la cosa? No. Nel colloquio in Coppa Italia non ti aveva anticipato la cosa? No, mi aveva detto che mi guardava le ultime due partite, non mi aveva proprio detto che mi avrebbe convocato, Mario voleva vedere proprio le ultime due partite come stava anche fisicamente. Allora abbiamo De Magistris e tutto il mercato web, poi Brunella Cullini Anza e Luca Cellini Italpress. Ciao Nicolò, ti chiedo come stai tu dal punto di vista anche psicologico, emotivo, dopo tutto ciò che è attraversato in questa lunga stagione e poi anche dal punto di vista personale cosa rappresenta per te questa convocazione? No, dal punto di vista mentale sto molto bene perché ho lavorato sette mesi per essere ora qua e o tornare nelle due partite di campionato e sono felicissimo di questo, non vedevo l'ora che arrivasse questo momento qua. L'altra domanda era? Ah, che momento è? Sto vivendo al massimo questa settimana qua, prima delle convocazioni ufficiali che farà il mister per l'europeo e ogni momento per me è bellissimo come quello di stamattina quando abbiamo visto i nostri cinque numeri dieci che per me sono sempre stati degli idoli ovviamente del Piero, Totti e Baggio sono riusciti a vederli mentre arrivi. Tra i cinque chi è il tuo preferito? Essendo Juventino del Piero però amo tutti quei campioni lì perché hanno indossato la maglia dell'Italia e ci hanno portato a vincere anche trofei importanti. Brunella Ciullini subito dietro dell'Ansa. Sì, ciao. Volevo chiederti questo, ecco, dopo questi sette lunghi mesi sei tornato, che cosa, non dico ti senti di promettere, ma già in questi giorni di lavoro e in previsione della lista ufficiale, sperando appunto tu stai lavorando per esserci, che cosa può dare Fagioli a questa nazionale, a questa avventura all'europeo dove l'Italia sarà chiamata a difendere il titolo? Ecco, che cosa ti senti di assicurare, di garantire, di dare? Grazie. È una domanda difficile, diciamo che devo essere me stesso, devo fare le cose che so fare in campo, tranquillo, e l'importante è godersi al massimo questa esperienza qua e quando sarò chiamato in campo di divertirmi e dare tutto a me stesso. Luca Cellini, da questo lato, Italpress. Ciao Niccolò, ti volevo chiedere, innanzitutto, della gara di domani, perché sarà, credo, un bel test contro la Turchia, fra l'altro loro hanno anche un grande centrocampo, quindi ti chiedo di spendere una parola su, per esempio, Ciananoglu, che conosciamo molto bene, e poi sull'Under 17, visto che sei stato un azzurrino, quanto ti fa felice che c'è una nazionale giovanile che è arrivata all'ultimo atto di un europeo. Grazie. No, ovviamente sulla partita di domani sarà una partita difficile perché la Turchia è una squadra molto forte, per noi è scritto che è un amichevole, ma per l'Italia non deve essere mai un amichevole. Su Ciananoglu quest'anno ha dimostrato di essere il centrocampista uno dei tre, quattro, cinque più forti al mondo e lui è uno di quei pochi che mi ha parlato quando ho avuto i momenti di difficoltà dopo la squalifica, mi chiedeva come stavo, l'ho visto tre, quattro volte fuori dal campo ed è una persona fantastica. Sull'Under 17 sono molto contento che siano in finale e gli auguro di andare diversamente da come è andata a me perché io ho perso in finale con l'Olanda e quindi gli auguro di vincere questo europeo, ma sono emozioni che rimarranno per tutta la vita perché fare un europeo anche da giovani, quando sei nel settore giovanile, sono emozioni fantastiche. 2018 rigori per la tua... Con l'Olanda, sì. Dovevo tirare il quarto, non ci siamo arrivati. Sì. Sì, anche per gli altri, domani ovviamente Italia-Portogallo 19.30, finale europeo-17, quarta finale della storia per l'Italia e ovviamente ancora nessun trofeo, quindi sarebbe interessante, insomma, è utile invertire la rotta. Andiamo in chiusura perché adesso arriva il Ministro, quindi ultime due domande al massimo. Una è Alberto Rimedio, Rai Sport. Ciao Nicolò, visto che ti sei lasciato alle spalle un momento così complicato della tua carriera e soprattutto della tua vita, pensi di poter diventare, a proposito di numeri 10, il numero 10 della nazionale, anche in prospettiva futura, prendendo esempio proprio dai grandissimi che sono stati qui oggi? Beh, diciamo che ovviamente è quasi impossibile paragonarsi a loro perché sono stati dei campioni assoluti. e ovviamente la tecnica che avevano era la qualità maggiore che hanno avuto nella loro carriera e anche io tecnicamente posso dare, non dico quanto loro, ma comunque posso dare tanto a questa squadra qua. Poi paragonarsi a loro è veramente difficile perché sono stati idoli e campioni, li vedo tuttora come idoli e campioni. Altre domande? Sì, Michele Avanza, ultima domanda e poi switchiamo con... Ah, c'era lui, scusami. Ciao. Ti volevo chiedere se un'eventuale convocazione nei 26 per te è una ripartenza, una rinascita da un certo punto di vista. Diciamo che per me la rinascita è stata a sette mesi fa quando il giorno che mi hanno squalificato perché ho capito davvero l'importanza di quello che mi è successo e che l'obiettivo per me era quello di tornare a fare la mia vita normale, quotidiana e di fare il lavoro che sto facendo ora. Ovviamente sarebbe un'emozione fantastica anche perché sarebbe la prima volta che vado a un europeo o a un mondiale. Comunque competizioni importantissime. Quindi per me indossare questa maglia qua in un torneo così importante sarebbe una soddisfazione enorme. Allora, l'ultima domanda, prego. Ciao Nicolò, prima hai detto che puoi fare la differenza con la tua qualità. Ti piace più giocare davanti alla difesa o da mezzala o in una posizione più avanzata? Diciamo che mi sono allenato in questo periodo qua più davanti alla difesa. Anche se ho sempre fatto comunque nei centrocampi a due con la Cremonese ho fatto davanti alla difesa poi alla Juve sto facendo la mezzala e diciamo che sì, davanti alla difesa preferisco. Anche se mezzala a sinistra mi piace. Bene, allora ringraziamo Nicolò e proseguiamo tra qualche minuto con il CT Luciano Spalletti. Grazie ancora. Grazie.